E' un po' di vento, magari prova Porco dio Guardate il caricamento della pistola, come viene effettuato Si fa così, si cura e poi si va Casco in testa e occhiali, a parte i professionisti come noi che riescono a prendere a 30 metri Anche 40, questo coso qua, compensato, si è inficcato Possiamo vedere che a 40 metri, riprendi la distanza dove eravamo Vicino alla macchina, macchina direi che sono anche 35, dai 35 metri L'ho preso Vedete il dardo, avvelenato se volete Ora, oro, oro, zecchino Ora, guardate come prendo la macchina da qua Perché non audio? No, è quello che metti